14, 29 e 33 secondi precisi, puntuali, con il nostro giornale. Vediamo subito sigla e gli argomenti scelti. Emergono nuovi particolari dell'operazione della polizia che ha portato alla luce l'incredibile centrale della droga che troverà nel Cosentino nelle mani dei cinesi e spunta il ruolo di una donna. Ammonta a 100 mila Euro il sequestro tra immobili e liquidità eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti di un dirigente americo dell'ASPE di Cosenza, indagato per truffa e falso ideologico. 251 auto di grossa cilindrata rubate in Canada e destinate a Libia, Marocco, Turchia e Emirati Arabi sono stati inconcettati all'interno di diversi contenuti nel porto di Gioia D'Avra. E' partita a Reggio Calabria l'operazione di rigenerazione urbana nel quartiere Picco Neforo. L'intervento è per complessivi 2 milioni di Euro. Il Cosenza ha ufficializzato l'acquisto del terzino ganese proveniente dal Potenza. Da oggi è a disposizione il tecnico Caserta. Allora, buon pomeriggio e grazie per essere con noi. L'operazione di polizia, nella quale si è avuta notizia nella giornata di ieri, è stata forse sottovalutata. Ma non è così perché i capannoni dove all'interno si lavorava la droga che veniva spedita in Olanda ci restituisce l'immagine cangiante di quella che è l'attivismo di certa criminalità che si muove in ambiti ben delineati, ben circoscritti e che forse è completamente sganciata da quelle che sono le consorterie criminali che operano nella zona. Intanto questa operazione ha interessato la provincia di Cosenza, già iniziata a giugno dello scorso anno con la scoperta di questo primo capannone, poi un secondo, poi un terzo, fino a ricostruire tutta la filiera gestita da cittadini cinesi. Vediamo i servizi perché spuntano anche dei particolari molto interessanti da questa inchiesta. Isabella Roccamo e Arcangelo Badolati. Vediamo. In questi capannoni veniva prodotta la droga, una filiera gestita da cittadini cinesi senza il placet delle cosche d'Indrangheta che anzi sarebbero stati all'oscuro del fiorente mercato. In un anno sono stati prodotti 1.100 kg di marijuana in capannoni situati a Luzzi, Santa Sofia de Piro e Amato, droga coltivata in Calabria destinata al nord Europa, in particolare a tre città olandesi. L'inchiesta che ha portato al sequestro di 580 kg di marijuana e al fermo di cinque cittadini cinesi è stata avviata proprio dopo il ritrovamento nell'area industriale di Santa Sofia de Piro in un capannone di un'enorme piantagione. Nella struttura c'era inoltre una parte dedicata al confezionamento dello superfacente. In quell'occasione i poliziotti sequestrarono 241 kg di erba. Era il 4 luglio scorso. Quattro giorni dopo altro maxisequestro in un capannone di Luzzi, anche questo attrezzato per la produzione e il confezionamento della droga. Dieci giorni più tardi, nella zona di Amato, nel Catanzarese, la scoperta di un altro capannone e il ritrovamento di altri 128 kg di marijuana. Per gli investigatori del questore di Cosenza Cannizzaro era chiaro che si trattava di una filiera produttiva. E così gli uomini del commissariato di Corigliano Rossano, diretti da Giuseppe Zanfini e della squadra mobile di Cosenza, coordinati da Gabriele Presti, hanno messo insieme le tessere del puzzle. Le certosine indagini hanno consentito di accertare l'esistenza di un traffico di stupefacenti verso l'estero. Gli atti sono stati trasmessi alla DDA di Catanzaro. Le intercettazioni e sequestri hanno consentito di scoprire l'esistenza di una centrale della droga gestita da una coppia di cinesi. La base logistica era in un appartamento situato nella zona centrale di Castrovilleri, dove gli incurenti hanno sequestrato droga già pronta per essere messa sul mercato e un ingente quantitativo di denaro. Tre le persone arrestate a Castrovilleri e due a Salerno e a capo del gruppo ci sarebbe una donna. I cinesi producevano centinaia di chili di marijuana sotto gli occhi dei boss dell'Andrangheta. I boss dell'Andrangheta e i loro picciotti non si accorgevano di nulla. E questa è la novità che emerge dall'ultima inchiesta condotta dalla DDA di Catanzaro e dalla Polizia di Stato nel Cosentina e nel Catanzarese. In questa inchiesta, ecco un'altra cosa davvero singolare, compare centrale il ruolo di una donna. È una donna che partecipa attivamente, gestisce la produzione di questa droga che è destinata a finire sui mercati olandesi. È lei che prepara le spedizioni, è lei che governa i lavoranti, naturalmente trattati malissimo, vengono ridotti in schiavitù, è lei che organizza un po' le attività che vanno fatte, è lei che fa i controlli sui capannoni impiegati per produrre questa droga. Dunque anche nell'ambito della criminalità orientale le donne hanno fatto un passo in avanti, come è successo, d'altronde, nell'Andrangheta. Ma l'Andrangheta in questa storia non c'entra nulla. I cinesi lavoravano sotto il naso dei boss e i boss non si accorgevano di nulla. La Guardia di Finanza ha sequestrato 100.000 euro in beni immobili e in denaro liquido ad un dirigente dell'Asp di Cosenza. L'accusa formulata professionista è di truffa e falso. La nostra Salva Baldino. Lavorava per quattro strutture socio-sanitarie private su cui avrebbe dovuto vigilare. Denunciato per truffa e falso un dirigente medico dell'Asp di Cosenza a cui sono stati confiscati 100.000 euro l'operazione della Guardia di Finanza. La posizione del geriatra è risultata incompatibile in quanto il professionista avrebbe violato il vincolo di esclusività che lo legava all'azienda sanitaria di cui era dipendente. Secondo quanto emerso dalle indagini delle fiamme gialle il ruolo del medico nel pubblico sarebbe stato quello di controllare sulle strutture per le quali invece avrebbe lavorato illecitamente. Dall'inchiesta emergerebbe la presunta falsificazione della documentazione relativa all'accreditamento operata dal dirigente medico e dai responsabili delle strutture. Carte che avrebbero di fatto causato errori sia da parte della Regione che dell'Asp. La Guardia di Finanza ha notificato le sanzioni amministrative anche alle società che gestivano le strutture sanitarie e che ora rischiano di pagare sanzioni fino a 60.000 euro. Per fortuna tutto ciò che arriva dalle navi quei container porto di Gioia Tauro vengono controllate se non fosse così. ma sempre con maggiore frequenza si intercettano questi container che sono carichi di droga. C'è di tutto, insomma. Ma questa è insolita perché in alcuni container erano sistemate qualcosa come 251 auto tutte di grossa cilindrata. Secondo gli investigatori questi grandi automobili erano state rubate in Canada ed erano in transito dal porto di Gioia Tauro verso Tunisia e altri paesi. Isabella Roccano. 251 trasuv e auto di grossa cilindrata rubate in Canada sono stati intercettati nel porto di Gioia Tauro. Il valore ammonta a 22 milioni di euro. Nello scalo calabrese erano in transito i container infatti erano destinati ai porti della Libia del Marocco della Turchia e degli Emirati Arabi ma le indagini coordinate alla procura di Palmi hanno consentito di bloccare il prezioso carico. Con l'ausilio dell'Interpol i poliziotti del commissariato di Gioia Tauro e della sezione di PG del compartimento della polizia stradale di Catanzaro i finanziari del gruppo di Gioia Tauro con l'ausilio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a partire dallo scorso settembre hanno analizzato i documenti commerciali di transito e trasporto di ben 483 container imbarcati su 18 distinte navi cargo. Sono state così individuate le vetture all'interno di diversi container partiti dai porti di Toronto Montreal e Vancouver. Sono tutti veicoli seminuovi alcuni con i dati identificativi contraffatti quasi alla perfezione. Nel corso delle blizze sequestrati anche 7.650 dollari canadesi nascosti all'interno di una delle auto rubate in Canada. Immagino adesso che bisogna recuperare le denunce fatte in Canada scomperse dall'auto poi arriveranno queste denunce verranno verificate qui da noi in Calabria intanto tutte queste auto rimarranno ferme lì nel porto di Gioia Tauro o verranno portate da qualche altra parte. Torniamo anche oggi sulla presunta aggressione al preside Trecroce al dirigente scolastico. Lo facciamo anche perché ieri sera è arrivata una lettera della firma dell'avvocato del presunto aggressore che dice tante cose delle quali ci parla Rosalba Badino. Vediamo. Aldo Trecroce è visibilmente provato quando ricostruisce i nostri microfoni quanto accaduto nella sua scuola e liceo scientifico scorza di Cosenza due giorni fa. Eravamo nel corridoio e ho detto guarda se condina così sono costretto a denunciarla per minacce e lui a quel punto si è girato e mi ha tirato uno schiaffo. Una storia tutt'altro che chiusa alle sue parole infatti oggi fanno eco quelle del presunto aggressore che si è recato in questura e in una lettera inviata dal suo legale di fiducia parla di massacro mediatico e spiega di intervenire a salvaguardia della minore inevitabilmente coinvolta nella vicenda. Ai poliziotti l'uomo ha fornito la sua versione dei fatti e si è detto sereno. Il dirigente scolastico è al suo posto di lavoro continua a incassare attestati di solidarietà e riflette su un fatto che dice non è privato ma specchio dei tempi. Resta però una grande amarezza una profonda tristezza per quanto accaduto perché devo dire che non solo io ma un po' tutti i dirigenti scolastici ma anche gli insegnanti non è vero che nella scuola c'è diciamo l'assismo ma normalmente si lavora si lavora seriamente nel mio caso devo dire che questo può essere confermato da tutti io sono stato sempre aperto al colloquio soprattutto con gli studenti che da me hanno la piena precedenza entrare in presidenza ma anche con i docenti e con i genitori oltre che con il personale tutto e sono rimasto quindi molto turbato dalla cosa diciamo anche demoralizzato perché questi episodi danneggiano come ha detto giustamente anche il ministro Valditara l'immagine dell'istituzione scolastica le tolgono l'autorevolezza e soprattutto veicolano un messaggio nei confronti dei nostri ragazzi assolutamente negativo queste le parole di Trecoci rimaniamo a parlare di scuola perché c'è una sindrome si chiama così alcuni la definiscono così che si chiama Borneau e che colpisce gli insegnanti in altri campi è possibile anche riscontrarla ma per quanto riguarda la scuola ha una particolare incidenza e forza bisogna parlarne bisogna diffondere cercare di capire ascoltare anche queste persone che ogni giorno frequentano le aule scolastiche per sei sette ore cosa più cosa meno la CGL ha indeso mettere insieme un po' di docenti chi lavora nel mondo della scuola per parlarne in un seminario il nostro Paolo te lo dico in molti non sanno neanche dell'esistenza del burnout ovvero di una patologia che negli ultimi tempi ha colpito molti insegnanti spesso quindi c'è scarsa conoscenza e proprio per colmare questa lacuna la federazione dei lavoratori della CGL di Cosenza ha organizzato un incontro con esperti del settore nel locale della scuola media guldo del capologo Bruzio ma cos'è esattamente il burnout? il burnout è una malattia che colpisce gli insegnanti proprio derivanti allo stress al lavoro correlato perché a me sono sottoposti a ritmi frenetici a una serie di sollecitazioni che la mondo della scuola porta al rapporto con gli studenti alle classi pollaio e una serie di situazioni che portano a questo stress che è una vera e propria patologia poi alla fine e di questo quasi soffre soffre tantissimo tant'è che molti docenti decidano di rinunciare al proprio lavoro in alcune situazioni non c'è dubbio quindi che i fatti di cronaca degli ultimi giorni e non solo quelli alimentino il degenerare di questa patologia sì i fatti di cronaca recentissima di quello che è successo ieri al dirigente Trecroci ma quello che è successo anche in altre scuole allo Spirito Santo qualche settimana fa portano proprio questa paura degli insegnanti perché ormai fare l'insegnante non è soltanto fare la propria professione cioè sedersi dietro una cattedra e insegnare ai ragazzi e ai bambini ma ormai si tratta di spersonalizzata si tratta proprio di tenere la classe proprio a fare attenzione che i bimbi non si facciano male i ragazzi non si facciano male perché ormai di questo si tratta con le classi con questi numeri che abbiamo attualmente e noi abbiamo uno psicologo soprattutto che magari nelle scuole ci sono già in alcuni casi ma sono rivolti soltanto agli alunni quindi in questo caso sarebbe anche utile parlarne con gli insegnanti bene questa è una sindrome importante che davvero alcune volte impedisce proprio di continuare a svolgere il proprio lavoro adesso parliamo invece di un tema molto dibattuto nel mondo politico oggetto di iniziative manifestazioni pro e contro parliamo della famosa autonomia differenziata passa e scatena le polemiche Calderoli porta a casa il suo progetto ma le opposizioni non ci stanno il nostro Domenico Martelli entra nel vivo e non potrebbe essere diversamente il decreto Calderoli cioè l'autonomia differenziata che diventa legge che poi significa che ogni regione distribuisce il PIL al proprio interno anche a fronte delle entrate fiscali della rispettiva produzione lo distribuisce al proprio interno ogni regione naturalmente a svantaggio di una minore di un minor gettito di entrate perequative da parte dello Stato centrale il dibattito è ovviamente infuocato in queste ore il PD nazionale ma anche quello regionale sale sulle barricate vengono coinvolti i governatori i presidenti di regione anche di centrodestra e viene inviato un ulteriore definitivo appello al presidente Occhiuto perché si faccia carico di una riflessione definitiva sulla materia contrariamente a quanto avvenuto in conferenza delle regioni dove Roberto Occhiuto ha votato favorevolmente per l'autonomia differenziata oggi chiedono gli oppositori si fa appello al presidente Occhiuto perché riveda quella posizione posizione che in verità Roberto Occhiuto ha già rivisto sia in cuor suo ma anche sul piano mediatico perché non è la prima volta che lo stesso Occhiuto esce allo scoperto proprio manifestando le perplessità sull'impostazione del decreto Calderoli che solo oggi viene a sapere essere abbastanza egoista nei confronti delle regioni del sud per quanto riguarda la sanità e i LEP beh sanità e l'EP insomma ma del resto il presidente della regione ha detto fino a quando non sappiamo esattamente cosa ci aspetta con questo passaggio l'autonomia differenziata diventa difficile concepirla pensarla immaginarla sostenerla metteteci voi un aggettivo che ritenete più opportuno andiamo adesso invece a Reggio Calabria dove dureranno 12 mesi i lavori di riqualificazione di uno dei quartieri più degradati della città che si chiama Vico Neforo Gianluca Pasqua ce ne parla dureranno dureranno circa 12 mesi la voia di rigenerazione urbana del complesso residenziale Vico Neforo Reggio Calabria il progetto vede la luce grazie a un investimento di circa 2 milioni di euro ed è stato avviato ascoltando le esigenze dei residenti nel corso di diversi incontri con i rappresentanti restituzioni il progetto prevede la riqualificazione di tutte le aree esterne alle palazzine la riqualificazione delle aiuole la realizzazione di un parco giochi per bambini che prima mancava e poi la ristrutturazione del campo da calcio e la realizzazione di un campo da bocce oltre naturalmente a una riqualificazione dell'intero sistema di illuminazione è la previsione di un sistema di videosorveglianza tutto questo nasce e viene realizzato grazie a un investimento di circa 2 milioni di euro a valere sui fondi del React il cronoprogramma prevede un ciclo di lavori di circa 12 mesi che noi seguiremo settimanalmente lo faremo insieme ai residenti che sono stati veramente i veri protagonisti della realizzazione di questo progetto Lasciamo Reggio Calabria andiamo a Castroviller dove ormai è tutto pronto per la sassantesima edizione del Carnevale del Pollino scelta anche l'immagine che rappresenterà questa edizione Paolo te la dico è una tradizione e da Carnevale tradizioni contano e non poco e allora come ogni anno qualche settimana prima del suo inizio è stato scoperto il manifesto del Carnevale di Castrovilleri quest'anno non è stato rappresentato Organtino ma una scelta con tanta fantasia e colore l'immagine rappresenta proprio questo senso di modernità e di innovazione di colore che non si va ovviamente a distaccare da quello che è il significato storico del mascheramento che è il vero significato culturale della nostra manifestazione e quindi Organtino sarà sempre il vero protagonista della 66esima edizione del Carnevale di Castrovilla un'immagine che racchiude quello che è il Carnevale lo spirito carnascialesco colori fiori il viso di una donna che viene avvolta da questi colori descrive lo spirito solidaristico lo spirito di fratellanza ma soprattutto il grande spettacolo della 66esima edizione del Carnevale di Castrovilleri la manifestazione prenderà il via il prossimo 3 febbraio tanti gli eventi che culmineranno poi nella classica tre giorni quest'anno dal 11 al 13 febbraio un evento che per la sua portata è inserito certamente fra i più importanti d'Italia siamo qui proprio per testimoniare il grande affetto che personalmente ma anche come istituzione abbiamo nei confronti di una manifestazione storica che rappresenta il culmine della secondo me della società castrovillarese questa grande capacità di accogliere la regione ha sostenuto innanzitutto con una legge regionale di riconoscimento credo che questo sia un dato importantissimo ma che sostiene finanziariamente perché manifestazioni come queste che hanno un effetto moltiplicatore che fanno promozione del territorio vanno sicuramente sostenute con grande determinazione da una regione che vuole cambiare anche il racconto di un territorio che è un territorio meraviglioso che ha tantissimo da offrire tra cui tante bellissime manifestazioni come il carnevale di Castrovilla quindi 66esima edizione e quindi tra un po' Castrovilla arriverà popolata da gruppi folkloristici colorati abiti una cosa meravigliosa con iniziative che si svolgeranno ad Olas una dietro l'altra perché questo è l'appuntamento clou presumiamo che già per esempio ci siano prese d'assalto gli hotel per le ultime stanze disponibili per assistere a queste tre giorni di iniziative ormai riconosciute in tutto il mondo come un appuntamento davvero bello serio allegro vivo abbiamo bisogno di cose allegre adesso lo sport il calcio ha firmato stamattina il neoacquisto del Cosenza ragazzo di internazionalità ganese già in forse alla potenza squadra di C1 è già da pomeriggio e a disposizione di mister Caserta Paolo Tarrarico probabilmente i principali colpi di mercato arriveranno a fine mese in prossimità dell'orario di chiusura di questa finestra ma intervenire prima significa permettere ai giocatori di ambientarsi prima del tempo perché al calcio giocato non si ferma c'era da rafforzare gli esterni in casa Cosenza e dopo fra botta arriva il sostituto dello sfortunato Martino si tratta di Bryant Gianfri difensore 27enne in forza in questa prima parte della stagione al potenza in Lega Pro il ganese ha già vestito la maglia di Reggiano e Benevento e proprio in Campania ha avuto come allenatore Fabio Caserta nella stagione 21-22 culminata con l'accesso ai playoff dei giallorossi un anno in cui però il tecnico non ha concesso molto spazio a Gianfri che ha portato a casa solo quattro presenze tre da subentrato negli ultimi minuti ed una dall'inizio ogni avventura però ha una storia a sé e la speranza è che l'impatto stavolta possa essere molto diverso la società vorrebbe potenziare anche il centrocampo e il nome di Dariva di proprietà dell'Atalanta ma in presto alla Reggiana circola con insistenza intanto però bisogna pensare al match contro il Venezia perché una nuova sconfitta potrebbe portare a scenari decisamente diversi in casa Catanzari invece come preannunciato anche da Vivarini il mercato va avanti con ritmi apparentemente diversi e i riflettori sono puntati alla trasferta contro la Feralpi Salò l'auspicio è vissare la vittoria contro il Lecco magari cercando di commettere qualche errore in meno in difesa e a proposito di difesa potrebbe mancare Fulignati quest'anno sempre in campo a causa dell'influenza in tal caso pronto l'esordio del secondo portiere Sala bene allora noi chiudiamo qui questa edizione del giornale anche perché tra poco ci sarà l'appuntamento con diritti negati piattaforma di messaggistica a vostra disposizione i numeri di telefono gli ospiti che risponderanno gli esperti che risponderanno ai vostri quesiti Isabella Lucamo è già in studio che sta per iniziare questo appuntamento è tutto noi ci vediamo più tardi arrivederci previsioni per oggi nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni in montagna molte nubi con deboli fiovigini in serata sulle coste bel tempo con cieli sereni o velati in montagna cieli molto nuvolosi o coperti le corse europee accelerano al rialzo a metà seduta mentre i futures di Wall Street viaggiano sopra la parità il Fuzzi Mib di Milano e il CAC 40 di Parigi guadagnano lo 0,8% il Dax di Francoforte più 0,6% il Fuzzi 100 di Londra più 0,1% l'Ibex 35 di Madrid meno 0,1% resta sotto i riflettori anche il World Economic Forum di Davos che terminerà domani il 19 gennaio e dove a margine del meeting la presidente della BCE Christine Lagarde ha affermato che l'Eurotower è sul percorso giusto aggiungendo che è necessario essere convinti che l'inflazione sia stabilmente proiettata verso il 2% e che ciò deve essere supportato dai dati sullo sfondo continuano a pesare le tensioni geopolitiche e i rischi di un contagio bellico dopo che l'aeronautica militare del Pakistan ha lanciato diversi attacchi aerei a Saravan causando diverse vittime occhi nel pomeriggio dagli USA ai dati sulla fiducia commerciale Fed Philadelphia di gennaio e le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sul Forex l'eurodollaro sale a 1,089 mentre il cambio tra biglietto verde e yen ridiscende a 147,9 il petrolio in rialzo con il Brent più 0,5% a 78,2 dollari e il VTI più 0,7% a 73 dollari sull'obbligazionario lo spread BTP Bund stabile a 158 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,88% tornando a Piazza Affari denaro soprattutto su BIPER più 3,4 Unicredit più 2,9 STM più 2,8 e Banco BPM più 2% in coda invece Amplifon meno 3,4 Campari Team meno 2,2 e Ricordati meno 2,1% grazie e al prossimo aggiornamento Grazie 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 Grazie